Un incontro molto speciale, è un incontro per l'ACW trofeo Cartoon Mix 2018 e sarà un cosplay match. Infatti, i quattro partecipati sono i protagonisti di quattro fiumetti totalmente italiani. E prima, vi presentiamo per l'incontro, il nostro sponsor, il ristorante Maragha, BAM, OIU-PEP. E ora ci siamo, per partecipare in questo incontro a patto. Il primo arriva da Metal Chronicles, Jack Sozo's Odyssey, di Mirko Foscella, che purtroppo non è potuto essere qui, ma vi mando i suoi saluti. Lui è Jack Sozo! Da Metal Chronicles, Jack Sozo's Odyssey, di Mirko Foscella, che purtroppo non è potuto essere qui, ma vi mando i suoi saluti. La mia mogu sia a tutti, ma vi mando i suoi saluti! Grazie a tutti. Il terzo partecipante da The Dark Winger del gruppo Matt Quattoli Studio, presenti allo stand Iris qui a Tartuvic, accompagnato da Rexial, David Wolff! Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti.